Continua a professare la sua innocenza Calogero Carbonaro, l'infermiere acatese che lavora al poliambulatorio di Via Generale Cascino a Vittoria e che è stato arrestato dai carabinieri per assenteismo su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il GIP ha deciso per la conferma del provvedimento, ma lo ha rimesso in libertà. L'uomo si è giustificato dicendo che se i militari lo hanno trovato fuori dal posto di lavoro in orari in cui avrebbe dovuto esserci e dopo aver timbrato il badge è perché tra le sue mansioni professionali c'era proprio quella di sbrigare pratiche all'esterno. I militari lo monitoravano già da qualche tempo quando sono scattate le manette. Evidentemente non erano passati inosservati i movimenti sospetti di quest'uomo che nel corso delle indagini è stato visto recarsi al centro migranti e alla guardia medica di Acate Scoglitti. Nel frattempo l'ASP ha fatto sapere di avere avviato un'azione disciplinare nei suoi confronti. La nuova normativa, si legge in una nota, prevede in questi casi la sospensione in via cautelare dal servizio senza stipendio entro 48 ore dalla scoperta della falsa attestazione di presenza. Grazie a tutti.